Domenica prossima, iniziativa del FAI, ne parliamo con l'architetto Ferraia che è il delegato per quanto riguarda la città di Alcamo. Ebbene, di che cosa si tratta? Domenica 22 alle 9.30 ci sarà al Collegio dei Gesuiti questa conversazione sul Barone Pastore ed è la prima manifestazione, la prima attività che il FAI di Alcamo organizza. Le altre attività che ha organizzato sono state sempre a carattere nazionale. Questa è stata progettata dal gruppo FAI di Alcamo e quindi operiamo ufficialmente le nostre attività del FAI alcamese. Architetto Inao, riguarda soltanto il Palazzo Pastore e se si può visitare, se sono aperti i locali per poter mostrare agli alcamesi e non solo le bellezza di questo palazzo? No, allora è una vera e propria passeggiata, infatti per questo proprio si chiama Spasso con il Barone perché partirà appunto dal Collegio dei Gesuiti dove ci saranno due relatori che metteranno anche in mostra i diari del Barone Pastore, alcuni oggetti personali, poi ci trasferiremo al Palazzo Pastore, saranno visitabili i piani del Palazzo Pastore, chiaramente a numero chiuso, perché sono tutte delle case private per cui non è possibile poter entrare tutti. Successivamente ci trasferiremo alla cappella di Piepio Pra Pastore e poi per finire alla residenza estiva del Barone Pastore che è il Baglio Fico dove ci sarà una colazione generale sempre per i prenotati, insomma la giornata finirà proprio così. Professor Francesco Melia ha studiato il Barone Pastore, ebbene chiede al Barone Pastore cosa ha fatto per la nostra comunità? È stato uno dei nostri più illustri concittadini, si è distinto per grande generosità nei confronti della nostra popolazione, ha lasciato soprattutto una cospicua eredità per la costruzione dell'istituto della Piepio Pra Pastore, che ha assegnato in modo indelebile il suo nome nella nostra storia cittadina. Quindi un benefattore a tutti gli effetti? Sì, in senso pieno.